Avio Molveno Partita che potrebbe segnare il cammino delle due squadre. Gli ospiti sono da due giornate a secco di vittorie, per questa ragione i gialloblu sognano il colpaccio che avvicinerebbe ulteriormente le posizioni di vertice. Guaita Castelcimego La sconfitta interna contro la Limonese ha inevitabilmente accorciato la classifica. Per laurearsi i campioni d'inverno serve almeno un pareggio. Riusciranno i gialloblu a mantenere positivo il trend contro le grandi? Limonese 3-Pi Varendena La vittoria a Cimego e quella nel recupero ha proiettato i gialloneri al secondo posto. La quarta vittoria consecutiva è possibile, ma attenzione ai locali reduci da due successi consecutivi. Vallagarina-Brenta La sfida tra le ultime due della classe offre la possibilità di tornare al successo dopo due mesi. Chi tra i bianco-rossi gli ospiti uscirà vincente da questa partita e potrà lavorare al meglio in vista del ritorno? La sfida tra i bianco-rossi gli ospiti uscirà vincente da questa partita e potrà lavorare al meglio in vista del ritorno. La sfida tra i bianco-rossi gli ospiti uscirà vincente da questa partita e potrà lavorare al meglio in vista del ritorno. La sfida tra i bianco-rossi gli ospiti uscirà vincente da questa partita e potrà lavorare al meglio.